Il partito democratico crotonese si organizza in vista delle elezioni della prossima primavera per il rinnovo dell'amministrazione comunale, ieri in riunione operativa. Non c'è nessun maradona politico da candidato a sindaco a queste conclusioni, è arrivato ieri il partito democratico che si è riunito per dibattere su come arrivare alle elezioni, alle prossime elezioni di primavera, scegliere i candidati a sindaco e comporre le liste, redigere un programma credibile che deve essere valutato dai cittadini di Crotone. L'incontro è durato tre ore, ci sono state tre ore di dibattito, dalle 18.30 alle 21.30, dopodiché il ragionamento è stato aggiornato a domani pomeriggio, al tardo pomeriggio di domani. Quali conclusioni è arrivato? Prendendo atto che non c'è nessun maradona nemmeno nella società civile, c'è vicino nell'area del centro-sinistra, nel partito democratico non c'è nessun maradona. Quindi il ragionamento per la scelta del candidato a sindaco può essere fatto a 360 gradi perché non c'è nessuno che rappresenta un valore aggiunto. Questo è il ragionamento che è stato fatto soprattutto da Vallone. Vallone in sostanza ha detto dopo di me il nulla, non c'è nessuno che in questo momento ha le qualità per potermi sostituire. Sempre nel partito democratico ieri sono state prese però delle decisioni. Quello di comporre una commissione trattante con i probabili alleati. Sì, anche di questo si è parlato. Alleanze a tutto campo senza nessuna esclusione. Anche se c'è qualcuno che frena in questa direzione, più di qualcuno frenerebbe su queste aperture che vengono fatte. Qualcuno vorrebbe che si ragionasse su una coalizione che parte dall'esistente, da quello che ha vinto l'elezione comunale cinque anni fa. Quindi nell'area del centro-sinistra. Anche perché molti... Si è superato questo ragionamento. Si è superato... Chi è contrario a questa ipotesi di partire esclusivamente dal centro-sinistra ma di allargare alla coalizione più in generale dice che i partiti stessi sono superati. Oggi l'unico partito che certamente si candiderà con il proprio simbolo, il PD, anche tra i probabili avversari. Forse Italia che parla di composizione di liste civiche. L'unico partito è questo. Quindi perché non allargare? Anche se questo comporta il rischio del trasformismo di chi sentendo magari odore di vittoria da una parte si schiera con chi vince. Quindi comporre questa commissione trattante col proposito di andare a discutere a 360 gradi comporre una commissione che si occupa delle composizioni delle liste e l'altra commissione che si occupa del programma da presentare ai cittadini. Quindi questa è l'idea. Facciamo tre commissioni. Una che va a trattare con gli alleati per stabilire come deve essere fatta l'alleanza. Una che si occupa delle composizioni delle liste. La terza che si occupa di redigere il programma. Qui si sono dati appuntamenti a domani. Quindi domani si riuniranno per entrare nel merito di queste tre questioni. Della composizione di queste tre commissioni. Vallone ha messo le mani avanti secondo quello che è stato possibile apprendere. Io sono entro di diritto in tutte le commissioni. In particolare nella commissione trattante. E torniamo in via generale Tellini dove ieri si è conclusa la prima fase di smantellamento delle bancarelle. Manca ancora la parte più sostanziosa che restituirebbe alla città un angolo, uno squarcio particolarmente bello, suggestivo e di grande pregio architettonico e storico. Via generale Tellini il giorno dopo. Il giorno dopo così si presenta. Dopo l'intervento appunto da parte delle forze, dell'interforze con i vigili del fuoco, con una ditta che è stata presa. Così si presenta. E' ovvio ci sono dei rifiuti che non possono essere considerati rifiuti solo di urbani. Perché i rifiuti sono di urbani, il resto è stato tolto, è stato pulito. Questi sono rifiuti considerati speciali. La muratura deve essere poi smaltita in un'apposita discarica. E speriamo che avvenga subito. Perché se dovessero lasciare per qualche settimana in queste condizioni, con queste immondizie, qui diventa davvero un pugno nell'occhio. Non è cambiato nulla. Allora, il prossimo 19, così come è stato detto, avverrà l'abbattimento delle bancarelle in muratura. Perché quelle che hanno tolto stamattina, ieri mattina, sono quelle in ferro. Ci sono commercianti che però non sono d'accordo. Ricordiamo che qui l'intervento è stato deciso qualche giorno prima di Natale, in un incontro, l'intervento con le forze dell'ordine congiunto, è stato deciso qualche giorno prima di Natale, in un incontro che si è tenuto presso la questura di Crotone. Allora, il 19 si farà questo, l'abbattimento degli altri. Stamattina i commercianti ovviamente sono aperti. Allora, parliamo con un commerciante che ci ha detto, io non sono d'accordo ad andare via. Non sono d'accordo ad andare via da qui. Allora, per quanto mi riguarda, io qua faccio commercio da tantissimi anni, sono in un box magari che non è mio, che non è mio, però mi è stato detto che l'oggetto è abbattere i box, togliere i commercianti di Viatellini e metterli in un altro posto. Togliere i commercianti di Viatellini... Al bar Mettuno, lì al... Alla galleria del Nettuno, chiamiamola galleria del Nettuno, dove ci sono adesso la sera centinaia e centinaia di migliaia di profughi, profughi, extracomunitari, non si sa se sono clandestini, non si sa perché non vengono fatti i meglio accertamenti. Queste poi sono le competenze che dovrebbero farlo, però secondo me non le fanno. Accertarsi di chi arriva a Crudone e chi non arriva, specialmente che oggi abbiamo notizia che stanno cominciando pure a stuporare le nostre donne, quindi è anche grave questa cosa, è anche grave. Quindi una persona che dice vado a fare commercio... Cioè questo è successo alternativo in Germania se riferisci perché... No, no, anche in Italia, perché c'è stata l'altro giorno a Rete Nazionale, a Rete 4, una ragazza di Venezia ha portato il problema anche in Italia, quindi succede anche in Italia e mi sembra Mestre. A Mestre è stata palpeggiata mentre camminava, ok? Quindi mi sembra inopportuno adesso andare a vedere... Cioè io penso una donna... Ma torniamo alla nostra questione. Ecco, Bar Nettuno, Galleria del Nettuno, ci sono questi extracomunitari, io andrò a fare commercio. Io no perché... Spiegherò anche perché no, è il motivo del no che non andrò, non andrò. Allora, il problema è che una donna alle 7 della sera, e andiamo oggi, adesso, in questo momento, e vi spido, a mezzogiorno troviamo le prostitute, prostitute, squillo, chiamiamole come vogliamo, a mezzodì, alle 7, chi conosce Crotone, chi passa in quella rotonda lì... Cioè lei dice non è sicuro il luogo dove ci vogliono... Ma non è sicuro a zero, proprio a zero sicurezza, o proprio a mille per mille. Non è una cosa bella per la città, non ha dato un input di miglioramento, ma è una discontinuità del nostro comune, della nostra amministrazione. fanno sempre quello che vogliono, ovviamente. Per quanto avete parlato prima delle bancarelle di ferro, è ovvio ed è normale che qualsiasi cittadino di Crotone vede quello che c'era lì, quello che c'è oggi, è ovvio che sia contento. Il problema è che queste bancarelle sono costruite... Allora, qua il problema delle bancarelle... ...sulla cinta murale, sono proprio attaccate alla cinta murale. Vi spiego, allora, il castello di Carlo V non è 100 metri, Allora, il castello di Carlo V ha un circondario, ha dei metraggi, della metratura. Allora, se partiamo che dà fastidio alle mure del castello di Carlo V, ben venga la cosa, perché io sono favorevole. Sono favorevole, però, nel senso che, se poi si fa questa cosa e si cacciano 32 operatori commerciali da questa parte, perché il muro di cinta del castello di Carlo V non si vede... La cinta murale, va bene. Va bene? Allora, se non si vede qua, non si vede neanche davanti di là c'è il chiosco, avanti alle scaline. Abbiamo fatto insieme con lei un reportage che stavano facendo un massetto di cemento armato nel verde pubblico, antistante, per fare un chiosco adiacente alle mura. Stiamo guardando, e guardiamo tutti i giorni, quando passo dalla piazzetta, le mure di cinta sono piene di antenne paraboliche. Abbiamo le antenne paraboliche al muro di cinta del castello del 1400. Ma stiamo scherzando e poi ci appogliamo al box. Ok, togliamoli i box. Ma c'è gente qua che i box ce li ha accatastati al comune con tanto di documentazione e lo può certificare. Va bene? Adesso mi viene detto che è stato fatto dal prefetto un'ordinanza forzata. L'ordinanza forzata perché arriva il prefetto a fare queste cose? Chi ha mollato e si è lavato le mani di questa cosa? Chi si è lavato le mani? Abbiamo saputo che anni fa la nostra cara amministrazione, non so se negli ultimi dieci anni o meno, abbia dato dei soldi a dei cittadini privati per spostarsi dalla piazzetta ad altri luoghi, forse proprio sul Nettuno. Ma i soldi che ha dato ai privati, di chi erano? Erano personali o erano dell'amministrazione? Perché bisogna saperle queste cose, no? Adesso sappiamo che bisogna avere una lampadina e ci rispondono che non abbiamo i fondi per fare la lampadina. Andiamo a guardare Cabellucci, andiamo a ispezionare Cabellucci, andiamo a ispezionare altre contrade di Crotone. Siamo alloce... Questi sono post elettorali, sono propagande elettorali, non sono cose che servono ai cittadini. Questa roba qui, mi segui? Sono 45 anni che sono qua. Ah, ci siamo stancati, non è vero niente che si sono stancati. Adesso, se erano stancati, portavano avanti il progetto loro. Chi ha fatto il progetto qua? Di chi è partito? Dall'amministrazione comunale. Chi ha portato e arrecato danni di 1.400.000 euro qua? Chi l'ha fatto il danno? Il Lodo Chisari. Chi l'ha costretto, il Lodo Chisari? Se lei taglia queste cose qui, io con lei non ci parlo più. Allora, non si deve permettere che io non taglio mai le cose. No, io ho visto quella forbicetta. No, sta parlando troppo, ho detto di finirla. Non è vero, e sono cose importanti adesso. No, ma la gente cambia canale. La gente cambia canale. Se non chiude, cambia canale. Quando sente dire 1.400.000 euro, soldi miei, soldi dei cittadini, la gente si attacca con le orecchie alla televisione. L'ho detto io queste cose, prima di lei. No, no, quando? L'ho detto più volte. E allora, adesso li riproponiamo. Li riproponiamo e diciamo, questo danno qui del Lodo Chisari, chi l'ha procurato? Perché viene il prefetto adesso ad abbattere se loro hanno procurato un danno di 1.400.000 euro? Con 1.400.000 euro di danni. Quante barracche si potevano fare? E quante situazioni si potevano fare? Qua bisogna mettere i puntini su chi ha combinato tutto questo guaio. e bisogna che sia fuori quella persona che ha portato il progetto avanti. Non che adesso viene il prefetto e butta tutto giù. Non è vero che si fa così. Non è vero. Chi ha le responsabilità deve, o è assessore, o è consigliere, o è dirigente, deve pagare, perché i cittadini sono stanchi di pagare sempre le solite tasse. Ieri i lavoratori della società gestione e servizi della provincia di Crotone hanno incontrato il presidente dell'ente intermedio. Sentiamo come è andata. I lavoratori della gestione e servizi ieri in mattinata hanno incontrato il sindaco Peppino Vallone. A lui hanno chiesto qual è l'evoluzione che avrà la gestione e servizi una società in house della provincia di Crotone. Bene, che cosa vi ha detto il sindaco? Allora, lui ha detto di aspettare sabato, che avrebbe cercato, ha proposto un'apertura, come cercare di poter, con l'aiuto della regione, poter accedere alle politiche attive per cercare comunque di continuare. Chiaramente noi gli abbiamo detto che solo le... Quindi cassa integrazione? Alla fine dovrebbe essere questa, perché solo le politiche attive non possono essere sufficienti. Il grosso rammare è che noi avevamo chiesto che ci fosse anche il liquidatore, come al solito si è depistato. Nell'incontro ci doveva essere anche il liquidatore. Ah no, questa era la nostra richiesta. Perché la società è in liquidazione, no? La società è in liquidazione, anche per capire le sue intenzioni quali siano, perché lui parla di una relazione dove ci siano degli esuberi, eventuali licenziamenti. E questo noi siamo in attesa di poter apprenderlo e discuterlo con lui. Vediamo sabato cosa esce fuori. Chiaramente... Sabato un incontro con... ci sarà pure il liquidatore. Come sarà questo incontro? Mi auguro che ci sia. Per adesso abbiamo preso l'appuntamento noi sindacati con il presidente Vallone che ha proposto questa apertura, anche se è un'apertura un po' che lascia la mare in bocca, perché chiaramente le politiche attive da solo non sono per niente sufficienti. Qual è la vostra richiesta? Che cosa volete? La vostra richiesta è comprensibile del fatto che la situazione è difficile, quantomeno rinnovare quei disciplinari che possono essere anche in minima parte coperti e poi eventualmente accedere anche a una forma di cassa integrazione, a fondi residuali. Ci sono varie forme che il governo si sta attrezzando apposta per queste società in house. Vediamo. Royalty destinata alla marineria crotonese. Domani una delegazione di pescatori dovrebbe incontrare l'assessore regionale al lavoro, si terrà domani mattina alle 9.30 l'incontro tra la regione, l'assessore Roccisano e i rappresentanti dei pescatori di Crotone, della marineria di Crotone, che chiedono il pagamento delle Royalty. La marineria di Crotone, per i danni subiti per la mancata pesca, per la presenza a mare degli impianti per l'estrazione del metano, hanno avuto riconosciuto un'indennità che viene pagata con i fondi delle Royalty, delle Royalty del metano stesso. La regione finora ha dato ai comuni solo la parte per quanto riguarda la questione dell'aeroporto. Le Royalty per la pesca li ha tratenuti la regione. Ieri i pescatori hanno incontrato il sindaco, il sindaco ha contattato la regione Calabria e l'assessore Roccisano. L'assessore Roccisano ha riunito l'incontro, ha stabilito che l'incontro si terrà domani mattina alle 9.30. Che cosa chiedono i pescatori di Crotone? Chiedono il pagamento di quote che non sono state versate per le annualità dal 2006 al 2010. Si tratterebbe di 140.000 euro all'anno. Una parte di queste quote, la parte più consistente, l'hanno percepito nel passato. Questa coda non l'hanno ancora avuto. Si tratta di circa un milione di euro che avanzano. E il pagamento delle ultime due annualità, 800.000 euro all'anno. Quindi la regione Calabria dovrebbe dovrebbe impegnarsi in questo incontro a pagare circa 2 milioni e mezzo di euro. Questo è. Nell'incontro umano sarà chiarito se pagherà o non pagherà. I pescatori dal canto loro dicono questi sono soldi nostri, stiamo vivendo una crisi terribile, non abbiamo più i soldi per mandare avanti le nostre famiglie, altrimenti rischiamo anche di dover chiudere le imbarcazioni perché non abbiamo i soldi nemmeno per comprare il gasolio. L'incontro, per chiarire ogni aspetto, è stato fissato per la mattina alle 9.30 dall'assessore Roccisano. E a proposito di pesca, la Capitaneria di Porto informa che con decreto ministeriale del 28 dicembre 2015 il Ministero delle Politiche Agricole ha dato facoltà alle imprese titolari delle imbarcazioni indicate all'allegato A dello stesso decreto di produrre apposita istanza volta a ottenere un'autorizzazione alla pesca del rossetto e del cicerello. Dalla lettura del disposto normativo si evince come solo le unità che saranno autorizzate dalla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Aquacultura potranno esercitare tale tipologia di pesca con la sciabbica danatante e la rete a circuzione senza chiusura in deroga alla normativa inerente la dimensione minima della maglia delle rete e della distanza minima della costa è solo fino al 15 aprile 2016. Permane invece il divieto di pesca del novellame di Sarde e Alice cosiddetto Bianchetto Sardella tale divieto sancito dal regolamento dell'Unione Europea giustificato dal fatto che sebbene predette specie ittiche siano molto simili quando si parla di Bianchetto o Sardella ci si riferisce al novellame di Sarde e Alice e quindi a esemplari in età giovane il rossetto e il cicerello invece sono specie ittiche molto piccole che mantengono una piccola taglia anche in età adulta. Anche Dionisio Gallo tra gli assolti per non aver commesso il fatto nell'ambito dell'inchiesta Why not tutti assolti i politici così scrive il Corriere della Calabria nell'edizione online di oggi chi sono i politici che erano stati indagati a partire dal 2006 dall'allora PM Luigi De Magistris PM di Catanzaro oggi sindaco di Napoli chi sono questi politici che sono stati assolti? Nicolò Adamo, Morelli, Dionisio Gallo e Morrone Dionisio Gallo è il politico di Crotone ex assessore regionale si è giocata la carriera politica per questo processo sono stati scaggionati per non aver commesso il fatto e allora ci chiediamo chi paga adesso? Questi politici hanno pagato sul piano personale tutti quanti adesso chi li ripaga per le cose visto che c'è una soluzione per non aver commesso il fatto? allora una condanna scrive il Corriere della Calabria quattro assoluzioni questa è la sentenza emessa oggi dal Tribunale Collegiale di Catanzaro nell'ambito del processo per associazione a delinquere scaturito dalla max inchiesta why not? così si chiamava quell'inchiesta in particolare i giudici hanno inflitto una pena di due anni e sei mesi a Giancarlo Franzè coordinatore del consorzio Brutium assolti per non aver commesso il fatto i politici calabresi Nicola Damo, Franco Morelli Dionisio Gallo e Denio Morrone si chiude così l'ultimo troncone della max inchiesta sui presunti illeciti nella gestione di fondi pubblici in Calabria aperta nel 2006 dall'allora PM Luigi De Magistris oggi ripeto sindaco di Napoli al termine dell'udienza preliminare i cinque indagati furono prosciolti dall'accusa di associazione a delinquere 17 in totale quelli che il GUP Abigail Mellace scaggionò completamente mentre 27 furono gli imputati rinviati a giudizio seguì l'impugnazione dalla procura generale con un ricorso alla Cassazione contro in particolare il proscioglimento dell'accusa di associazione per delinquere un ricorso accolto il 20 luglio 2011 dal giudice supremo che ha annullato la decisione del GUP rinviando gli atti a Catanzaro per una nuova udienza preliminare infine il 6 aprile 2012 rinvia giudizio che ha portato tutti a processo oggi infine la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Catanzaro che assolve i politici tutti quanti per non aver commesso il fatto stamane nella centralissima piazza Pitagora a Crotone una Fiat Punto guidata da un uomo ha investito madre e figlia intenta di attraversare la strada sulle strisce pedonali sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i vigili urbani e la polizia per i rilievi del caso la madre sarebbe rimasta ferita a terra mentre la figlia avrebbe riportato danni minori ed ora andiamo a Rocca di Neto dove nei giorni scorsi la parrocchia di Santa Maria Bertilla ha ricevuto la visita del vescovo di noto Antonino Stagliano sono venuto qui in questa parrocchia perché i parroci Don Pierluigi e Don Oreste mi hanno invitato nel loro intento c'era la possibilità che il vescovo di noto Don Tonino che è originario di queste terre potesse parlare a questa porzione di popolo di Dio che vive in questa parrocchia e in buona sostanza ho cercato di dare il mio annuncio attraverso una predicazione cristiana che punti a ridare al cristianesimo una nuova e vera e più autentica carne il rischio che noi corriamo è quello di estetizzare troppo il cristianesimo e estetizzandolo cioè cogliendolo è soltanto la bellezza delle forme che siano forme liturgiche che siano forme artistiche di vario genere pensiamo per esempio ai presepi belli che noi sappiamo produrre organizzare in ogni dove anche all'interno delle nostre case e con questa estetizzazione del cristianesimo rischia l'anestesia del corpo ecclesiale che cosa voglio dire voglio dire che quando tu fai un'anestesia ha un corpo il corpo non sente niente immaginiamo per esempio un cattolico che vada davanti a un presepe e dica oh che bello e si emozioni nel vedere i mestieri antichi Maria e Giuseppe nella grotta di Betlemme e si emozioni veramente dal profondo del cuore ma non senta propriamente il messaggio cristiano perché il messaggio cristiano ho cercato di dire questo io il figlio di Dio sono nato qui nella carne umana per tutti vedete in che condizioni brutte mi avete fatto nascere voi umani a mia madre l'avete espulsa non c'era per loro posto in albergo semplicemente perché mia madre e mio padre non potevano pagare li avete buttati fuori a partorire in una grotta ebbene io vi dico a tutti quelli che venite davanti al presepe da oggi in poi voi non vi dovete permettere di far nascere più nessun bimbo nelle condizioni in cui sono nato io al paese dell'ore e dell'argento ma di notte non posso dormire ho visto una stella una stella nel cielo ma di notte tu non puoi dormire ma hai visto una stella una stella nel cielo i bambini di Betlemme stanno giocando sulla piazza e tu arriva noi le macchi sono uno due tre e restiamo a Rocca di Neto dove sempre nei giorni scorsi nella sala consigliare del comune è stato presentato il libro di Angelina Brasacchio Il vestito della sposa Il vestito della sposa è una storia romanzata è una storia sociale romanzata del nostro territorio e le anni di riferimento sono dalla fine della seconda guerra mondiale quindi l'arrivo degli alleati fino alla riforma agraria agli anni 50 quasi 60 è una storia che parla ripeto degli avvenimenti storico-sociali e il titolo dipende proprio da un episodio particolare il vestito della sposa perché subito dopo la guerra una sarta perché doveva uccidere un vestito da sposa a una ragazza non trovava la stoffa per ovvi motivi perché non erano reperibili data la crisi eccetera e di contrabbando riesce ad avere delle pezzi di un paracaduto americano di seta di seta di un paracaduto americano e recuperando queste stoffe riesce a fare un vestito molto bello quindi è un riferimento storico e da qui parte tutta la storia quindi inoltre ci sono riferimenti precisi a fatti storici come per esempio le lotte bracciantili perché c'è la costruzione la descrizione e l'analisi dei due blocchi sociali che partono dal dopoguerra c'è quelli degli agrari e quelli dei braccianti due blocchi che come dire si osservano si guardano con diffidenza anche anche con ostilità e alla fine lo scontro avviene con le lotte di Melissa che saranno la premessa della riforma agraria cioè il governo si rende conto della necessità di dare le terre ai contadini e quindi poi ci sarà la riforma agraria ora queste storie sono raccontate dai personaggi cioè sono i personaggi che sono i personaggi umili i personaggi del popolo che raccontano i loro fatti gli episodi e quindi la storia in altri termini c'è la grande storia che noi leggiamo sui libri e poi questa grande storia questi avvenimenti si declinano in maniera particolare nei vari territori quindi c'è raccontata la ricaduta nel nostro ambiente della valle del Neto di questi grandi fatti storici ed è raccontato anche con un tono affabulatorio è una lettura agevole con questo libro io ho concorso appunto a un concorso letterario indetto dal settore cultura della CGL che si è tenuto a Cattolica a settembre del 2014 sono stata seconda quindi finalista con questo libro sereno visibilità ottima vento di otto nodi il tempo previsto per domani su Crutone e provincia con 13 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo e otto le minime ed ora il bollettino nautico del Marlioni o tempo vento da ovest forza 6 rotazione da nord ovest e poco nuvoloso visibilità buona mare molto mosso tendenza vento da nord ovest forza 7 e parzialmente nuvoloso bene io ho terminato grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni grazie per la visione